Ciao ragazzi, ci sta pronunciando che stasera è proprio Magno Grigio, a zona di buono. Allora ragazzi, siamo sempre rivolte a un tizio in grado. Questa sera siamo qua, per la musica, l'ho detto prima, chi non era presenta in piazza, buonasera, bene arrivati, mi fa piacere vedere una piazza, devo dire, come mai, fino a questo anno, quindi grazie a voi, grazie all'organizzazione che recentemente ci ha visto bene, ci ha preso quest'anno, alla grandissima. Voglio ricordare solo che l'ospettacolo di presentatore con la settima volta è che a mezzanotte salte come al solito, scaderemo l'anno nuovo per il 2014, quindi a questo punto, fra meno di un'ora, da piazzolo con l'ospettacolo di fuochi pirodecnici, fuochi d'artificio là, che si vedranno anche qua, in realtà, ma naturalmente da questo palco continueremo ancora in delirio generale, tra i miei, insomma, tutto quello che ovviamente si conviene per festeggiare a dovere l'anno nuovo. Ma le stelle invece sono andate a vedere, a ascoltare con le mie orecchie, c'è già la musica, vanno lisce, quant'altro, da piazza Gramsci, quindi la festa è iniziata, la festa prosegue ancora fino, ovviamente, minimo alle tre di notte. Quindi restate con noi, buon divertimento, più o meno ci siete? Per la settima onda, vi lascio ancora con loro, ci ritroviamo su questo palco, offranno molto per il Kanda, buon divertimento! Buon divertimento!